signori e signori buongiorno benvenuti oggi siamo nella zona del cornice proprio nel centro a due mare abbiamo una villetta simpatica ad abitare si tratta una villa a 200 metri del mare e poi poi a quasi 300 400 del centro storico la spiaggia vicino è molto bella il quartiere è molto tranquillo come vedete si entra dentro prima di tutto c'è un parcheggio per la macchina parcheggio interno e poi la casa è moderna con un stile un po tradizionale e molto piacevole come vedete c'è una bella terrazza fuori un po di spazio vicino come un piccolo giardino e poi vedete quella bella porta davanti tipica di amamette all'ingresso c'è una doccia per quelle che vanno al mare si entra c'è la doccia vicino e poi c'è la casa si tratta di un affitto annuale affitto annuale dunque appena si entra c'è un corridoio alla sinistra a destra c'è la cucina una cucina moderna c'è di tutto dentro dunque piacevole frigorifero microonda tutto poi c'è spazio abbastanza spazio c'è il riscaldamento delle varie camere in fondo c'è una bella una bella terrazza o una bella un bel salotto con una finestra e poi una porta finestra che dà sulla che dà su la terrazza e il giardino ecco di qua si apre c'è comunque nel salotto c'è un spazio usato come sala da pranzo poi dal salotto se continuo poi nel salotto dovete vedere che c'è lo stile tipico con il wood tradizionale molto usato che aiuta la circolazione dell'aria dentro la casa poi dopo di che c'è un piccolo una camera abbastanza grande dobbiamo aggiustarla un po per essere usata per una persona adulta dunque ci saranno due letti single in questa camera una camera con una bella finestra che riceve la luce a mezzogiorno poi c'è vari armati nella parte destra della camera dunque camera abbastanza grande questa è la prima camera dopodiché si continua a destra dove c'è il bagno comune dunque va al bagno con la vasca la doccia quindi questo il bagno comune invece nella camera principale c'è un altro bagno più grande ecco qua c'è il bagno vedete il secondo bagno va molto grande con un spazio sufficiente due vasche poi una finestra abbastanza grande percebe la luce la mattina il bagno è molto tradizionale tipico del della zona dressing a destra e a sinistra poi questa è la camera principale vedete c'è riscaldamento l'aria condizionata nelle varie camere una finestra tradizionale poi c'è un'altra porta finestra grandissima che riceve la luce la mattina ed ha vista sul giardino di dietro dunque c'è un po di spazio dietro come giardino una casa molto bella piacevole moderna nuova appena costruita qualche anni fa costruita dunque molto nuova e molto funzionale dunque non manca niente dentro il prezzo vedete qua la la vista che potete avere dal salotto sul giardino davanti dunque abbiamo fatto il tour totale del di questa casa che mi è piaciuto tanto il prezzo richiesto e 1600 dinari sono quasi 500 euro al mese perciò potete chiamarci sul 54 040 771 oppure sul 27 110 310 grazie per aver seguito e alla prossima date a piedi siamo quasi a 200 metri di questa casa che abbiamo filmato adesso e abbiamo voluto far vedere il mare che è molto bello mare azzurro pulito ben frequentato grazie e alla prossima ciao